Ultimo allenamento venerdì per la formazione dell'Allianz Udas. I biancazzuri allenati da Luigi Marinelli che stanno disputando il pool promozione per la Serie B dopo il successo ottenuto contro Pozzuoli all'ultimo secondo con il punteggio di 70-68 stanno preparando la delicata trasferta in programma a Teramo domenica prossima. L'ambiente sta vivendo una situazione particolare, soprattutto legate alle condizioni di due giocatori. Gianluca Trevici con problemi alla schiena e Gianfranco Falcone con un virus inafluenzale. Nell'andamento di giovedì ha fatto una piacevole sorpresa e una ricomparsa uno dei fautori della promozione di circa tre anni fa, Checco D'Arrissi che attualmente gioca nella web in Ampredonia. Il cannibale ex si è allenato ed ha salutato i tifosi con molto calore e molto affetto. Ricordiamo che la partita in programma contro Teramo è alle 18 di domenica prossima.